Burloni, come al solito ci siamo messi nei guai. Oggi il nostro obiettivo è provare ad uscire da questo posto, anche se non sembra proprio una prigione, perché sì, questa porta è chiusa e lì c'è un bottone, ma da questa parte c'è una porta di legno che porta ad un tizio abbastanza losco che se lo guardo in faccia non ha nulla che mi fa pensare che sia una persona buona, sembra una sorta di pirata, non lo so che cosa può sembrare, ma io direi che andiamo a parlare subito con lui. Ma prima di parlare con lui ragazzi vi voglio dire una cosa, Marcipalla è tornato attivo ed oggi è uscito il primo episodio della mia nuova vanilla, vi lascio il link in descrizione, non perdetevelo e lasciate già un mi piace a questo video, se riusciamo ad arrivare a 10.000 sarei contento, iscrivetevi, fate tutte quelle cose lì. Leggiamo cosa c'ha da dirci Rufus, ciao madamarci, finalmente ti sei svegliato, avrai sicuramente un mucchio di domande, ti rispondo subito io, sei stato portato in questo universo parallelo, da qualcuno che voleva metterti alla prova. Per poter tornare nel tuo mondo dovrai completare delle missioni, chi ti ha mandato qua aveva stima di te, è nelle tue capacità, in bocca al lupo. Rufus, viva il lupo, e ora proverò ad uscire da questo posto, spero che non sia troppo complicato perché sembra una prigione, castello, una reggia, non ne ho la più palida idea. Vediamo cosa si cela qua dentro, no no no, ho già visto un sacco di mob, facciamo che andiamo da una, ma è pieno di mob ovunque, io cosa devo fare? Cioè potevate lasciarmi qualcosa per iniziare? Allora facciamo così, facciamolo uscire, vieni qua, sì, io poi faccio così e chiudo dietro. Ah ti ho chiuso, ah 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 ah, oddio lì c'è un creeper, qui che cosa c'è? Miniera del ferro magico, questo ferro si auto rigenera, ok, andiamo, oh ci sono delle mele d'oro, c'è un po' di cibo, c'è un sacco di cose carine che mi prendo subitissimo. Fammi prendere tutta sta roba, ma chi è che, ma tu porca miseria, hai qualcosa che non va eh, fatemi vedere se è vera questa cosa, questo ferro si auto, oddio, è un ferro auto rigenerante, cioè mette la bedrock e dopo un po' penso che rinasca in qualche modo. Sì ragazzi guardate, che spettacolo, non avevo mai visto una cosa del genere, bellissimo, quindi beh, oh qua c'è un'altra cesta, ah qui abbiamo un altro kit base, io prenderei comunque qualcosina che ci può sempre essere utile. Da qua c'è qualcosa che possiamo prendere, sì direi che almeno l'elmettino ce lo prendiamo, a livello di cibo siamo messi bene, quindi non ci interessa nient'altro. Molto bene, allora voglio provare ad andare nella stanzetta che avevo visto qua di fianco a Rufus, e vedere se qua dentro c'è qualcosa che mi potrebbe interessare in qualche modo, perché c'erano dei mob, e quei mob erano abbastanza cattivi, questo è cattivo, questo è cattivo, questi sono tutti cattivi, questi sono tutti cattivi, tu sei più cattivo degli altri eh, tu scheletro sei più cattivo degli altri, e tu pure sei cattivissimo. No stai, bravo, artigiano gin, grazie, mi hai appena salvato la vita, e non te ne sei neanche reso conto. Ciao madamarci, io posseggo delle chiavi dell'artigiano, costano 64 di ferro. Chiave blu, usa questa chiave assieme alle altre quattro chiavi per poter aprire il portale interdimensionale. 64 di ferro, beh, non sono mica male, però io penso di dover metterli tutti a cuocere, quindi a questo punto mettiamoci subito all'opera, e andiamo a vedere se riusciamo a prendere un po' di ferro nelle vicinanze, penso di dover utilizzare questa caderna autorigenerativa. Oh, 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 portale per la libertà, leggende narrano che per aprirlo basti droppare le cinque chiavi della prigione. Ma raga, ma questa cosa è, wow, ma è fantastica, penso di doverle buttare tipo qua dentro in qualche modo, va bene. Allora, iniziamo da questa cosa del ferro, prendiamo più ferro possibile, che mi sembra la cosa più giusta da fare in questo momento. Qui c'è del ferro che abbiamo messo da qualche parte, non c'è del ferro, quindi devo continuare a scavare finché non arrivo a 64. O meglio, in questo caso, a 56, perché 8 li abbiamo già presi. La cosa super divertente è che non faccio neanche in tempo a finire tutto il giro che si sono già rigenerati, quindi questa cosa è tipo troppo bella, posso dirla questa cosa? Allora, adesso vediamo quanti ne ho, dovrei già averne almeno una trentina buona. Ok, forse anche di più, perché sto scavando comunque da parecchio, vediamo un po'. Ne abbiamo 35, vedi, vedi, 35, 35, lo sapevo, lo sapevo che l'ho messo bene. 39 pezzi, 56 sono il nostro numero, 56 esatti presi. Adesso io quello che voglio fare è dividerli in 8 per 8, cos'è meno ogni carbone ne può cuocere uno, anche se potrei effettivamente farli cuocere 4 e 4. Ma se facciamo così, raga, facciamoli cuocere 4 alla volta. E chi se ne frega, così ci mettiamo un attimino a cuocerli tutti! Guarda qui che stanno già cuocendo, siamo troppo veloci, ragazzi. Oh mio Dio, aspetta, prendiamo intanto questi qua, ne abbiamo 8, qua ne abbiamo già 9, qua ne abbiamo già 10. Oh, velocissimi, raga, velocissimi. 48, 52, 56. Dove sono gli altri? Li ho persi, oh, eccoli qua, altri 4 e qua altri 4. 64 artigianogene, voglio la mia chiave. Quanto diamine è bella, ragazzi, guardatela, la chiave blu, mi piace tantissimo. Questo vuol dire che all'interno del villaggio dovrebbero esserci delle altre persone che per qualcosa ci danno qualcosa, insomma, come fossero delle vere e proprie missioni. Ok, allora, dirigiamoci un po' in giro, vediamo se qua c'è qualcosa che magari non ho visto. Qua c'è qualcosa, nelle ceste non c'è niente? Ciao piccole ceste, come sta? Odio, sto questo cosa qui mi fa un po' paura. Sono spaventato da questa cosa, non posso salire? Ok, di qua non si può più salire più di così, va bene, torniamo giù che forse è meglio. Mi sa che mi sono imbuccato in una zona in cui non dovevo neanche andare. Però, tutto sommato, non mi dispiace. Ok, oh, Freddy il confuso qua c'è. Freddy il confuso vuole 5 name tag per la chiave gialla. Che bella la chiave gialla, mi ricorda qualcosa ma non mi ricordo realmente che cosa. Abbiamo bisogno delle name tag. Io penso, immagino, che le name tag si trovano all'interno di queste ceste qua. Un pochettino in giro nella mappa. E che noi praticamente dobbiamo trovarle in qualche modo. Allora, proviamo a salire, oh, lì c'è Danny il palestino, ma quello è Danny Lazzarin? Cioè, vuole imitare Danny? Ma Danny è unico, ragazzi. Cioè, è uno dei miei youtuber preferiti. Però non ditelo a nessuno. Io non ho youtuber preferiti. Il mio youtuber preferito sono io, ok? Eccola qua. Una name tag trovata. Lo sapevo che c'era qualcosa che dovevamo trovare. Vediamo un pochettino se qua sopra c'è qualcos'altro. Allora, mi sembra che... Siano dentro le ceste e non dentro i barrel. Come se le ceste fossero quello che ci serve realmente. Allora, qua non vedo nient'altro. Qui non vedo nient'altro. E qui, uh, incantatrice Mary. Lei ci dà la chiave viola per 16 libri. Ma campionessa, ma io i libri te li do subito. Ma io i libri te li do subito. Oddio, forse non dovevo fare così. Ascolta. No, lo so, Mary, lo so. Hai ragione. Cioè, tu hai pienamente ragione. Però ti giuro che ti sistemo tutto. Chiave viola presa. Quindi ce ne servono altre tre. Allora, io ho già visto due NPC che sono Danny e Fred. Ma ce ne serve anche un altro. Che io non ho visto da nessuna parte. Qua c'è un'altra name tag ed questa cosa è ottima. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro qua in zona. Non vedo niente, eh. Forse devo farle con queste cose qui, i libri. Vabbè, non c'è nessuno che ci vieta di aver fatto così. No, ho sbaglio. Aspetta, qui come ci arrivo lì? Ma io non posso arrivare lì sopra. Ma io come ci arrivo lì sopra, esattamente? È un pochettino strano questo posto, eh. È piuttosto strano questo posto. Piuttosto, piuttosto, piuttosto. Vediamo se qua dentro possiamo andare da qualche altra parte. Sì, c'è un'altra parte del villaggio qua. Allora, controlliamo se ci sono delle ceste in giro. Uh, qua c'è qualcuno. Commerciante Mark. Carino. Allora, lui ci dà le chiavi rosse per 64 patate e 64 di wheat. Potrebbe essere interessante. Quindi ci servono carote e, ehm, e direi di fare il fieno. Perché il fieno lo facciamo facilmente spaccando queste cose qua. Ecco, non ho preso la zappa perché non la prendo la zappa. Oh! Un'altra name tag. Molto interessante questa cosa. Quanti ce ne servono per arrivare a 64? Beh, un po' ce ne servono in realtà, eh. Un pochettino ci servono. Vediamo un pochettino se qua ci arriviamo. 54. Così dovremmo essere giusti giusti. Fatemi provare. Dove è andato? Eccolo qua. Esatto. Mannaggia a me, mannaggia. Ok, così siamo full. Qua c'è altre name tag in giro. È che a me preoccupa che magari le name tag sono esattamente poche. E io non riesco a trovarle in qualche modo. Allora, qui c'è qualcos'altro. Se ne avvisse una ceste in giro, no. Me la sono sognata. Bello sognarsi le ceste, ragazzi. Molto, molto interessante. Oserei dire. Qui non c'è niente. No, qua si scende. Quindi approfitto di prendere questo grano qua. Me l'ha dato? Sì, così ne abbiamo direttamente 64. Torno dalla parte in cui sono arrivato. Vediamo se qua c'è qualcosa che mi son perso. Oh, sì, 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 sì. Qua c'è qualcosa. No. Io voglio una name tag! Non ne sto trovando per niente, raga. Cavolo, ma questa cosa potrebbe essere un problema, eh. Io non ne vedo proprio in giro. Vabbè. Allora, facciamo che torniamo giù e andiamo a prenderci un po' di queste cose qui. Queste sono patate. Le patate mi pare che andassero bene o mi sbaglio? Siamo a 17. Ok, facciamo così. Io prendo un po' tutto, raga. Così, almeno siamo sicuri. Eh, ma questa dovrebbe la 64 patate. 63. Ah, no, perché ne ho fatte già due stack. Quello è il problema. Ne ho già fatti due stack. Oh, diamine. Allora, qua c'è il tizio. No, il tizio era là sopra. Mi sono un po' confuso a livello di posti, raga, eh. Allora, aspetta. Dove siamo arrivati di qua? Perché non sto trovando niente? Perché il tizio è di qua? Non è qua. Mi sono perso il tizio che c'era prima. Ma diamine, dov'è? Allora, è qua dentro. È qua dentro, sì. Commerciante Mark. Voglio la sua chiave. Voglio la chiave rossa. Sì, chiave rossa. Che bella quella rossa, ragazzi. È bellissima. Ma ce ne mancano solo due. Dobbiamo andare da Danny e dobbiamo cercare le name tag rimanenti. Che mi sembra la cosa un po' più complicata. Perché mi sembra che siano nascoste molto bene queste piccole name tag. Io ne ho esattamente tre. Lui però ne vuole cinque. Eh, lui ne vuole cinque. Molto interessante come cosa. Io farei questo bel parkurito per andare dal signor Danny il palestrato. Cosa vuole Danny? Vediamo un pochettino. Parlo con Danny. Conta salti. Fai 60 salti per ricevere la chiave di Danny? Ma che figata. Ma che figata sta cosa. Vediamo. Devi ancora fare 60. Ma veramente? Vabbè, io salto così, ragazzi. Intanto cerco le chest. Oh mio Dio, burloni. Ma questa cosa è bellissima. È bellissima questa cosa. Io però voglio controllare se nei barrel c'è qualcosa. Secondo voi è stato messo solo nelle chest o anche nei barrel? Perché mi pare un po' strana questa cosa. Mi pare un pochettino strana. Qua c'è una chest e non c'è niente. Potrebbe risultare un problema. Sì, potrebbe risultare un problema. Perché non riusciamo a capire realmente... Oh, devo tenere in mano questo. Non riusciamo a capire dove possono essere le chest. Io non ne sto vedendo in giro. Lì ce n'è una. Ma come ci arrivo lì sopra? Lì sopra ci arriva in qualche modo? Ci arrivo con i blocchi. Quindi facciamo così. Io di blocchi ne ho. Ho un pochettino di cobblestone. Io non penso di poter spaccare queste cose qua. Però posso spaccare magari il legno. Il legno è già più fattibile da spaccare. Spacchiamo il legno. Via. Via, 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 via. Spacchiamo il legno e facciamoci dei blocchi per salire. Secondo me da questa parte qua sopra potrebbe esserci una cestolina. Vediamo un pochettino se c'ho ragione. Non ho ragione. Molto bene oserei dire. Chest, chest, ciao. Sono Marci e cerco delle name tag. Sono le ultime cose che mi servono. Perché non le sto trovando? Diamine a me, diamine. Diamine a me. Abbiamo 26 salti da fare ancora e da dove sono arrivato, scusate. Come ci sono arrivato qua io? Non ho usato un... Aspetta, vado di qua e salto giù. Ok. Ne mancano solo due ragazzi di name tag. E ci mancano pochi salti. Quindi di conseguenza abbiamo perso proprio delle name tag in giro. senza che mi rendessi conto. Oh, chiave verde! Che bella che è la chiave verde! Raga, la chiave verde è bellissima! E forse a livello proprio estetico è bellissima. O anche la rossa. La rossa c'ha una... C'ha la faccina birichina. Eh, possiamo dire che è la faccina birichina? No. Allora, ci sono delle chest in giro che ancora non abbiamo esplorato né visto. Perché qui effettivamente c'è un po' di curse d'orte che ci può servire per andare nelle varie zone. Questo non è che magari c'è delle name tag in giro. No, Danny non ha delle name tag da darmi. Questa cosa potrebbe risultare un problema? Sì. Potrebbe essere un problema. Perché non vedo delle chest in giro che magari mi sono perso in qualche strana maniera. Possibile che non le abbia viste? Potrebbe essere possibile, assolutamente. Però, ecco, qua sopra magari c'è qualcosa che non ho visto. Qua non c'è niente. Io provo ad andare in questa casa, raga. Cioè, qua volete dirmi che non c'è un ingresso da qualche parte? C'è un ingresso per forza da questa parte qua. Allora, facciamo così. Saliamo qua sopra. Qui c'è una po'. Ma è tutto completamente fatto in maniera strana questo posto, eh. Cioè, possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Sì, possiamo dirlo. È tutto chiuso, ma non si capisce niente. Ah, perché si entrava dall'alto? No. Sì, si entrava dall'alto. Wow. Allora, qua sopra non siamo venuti al 100%. Oh, yes! Ma quante cose carine che ci sono qua, eh. Un'altra name tag. Ne abbiamo cinque, quindi siamo già a posto. Qua ce ne erano ben due. Mi sa che erano le due finali, ragazzi. Erano proprio qua. L'unico posto effettivamente che non avevamo visto. Quindi, abbiamo l'ultima chiave per l'ultima missione per scappare da questo posto da cui siamo stati rapiti. Allora, buttiamoci giù di qua senza morire magari. Ecco, forse qua prendo un po' di danno. Però, in teoria, se io vado da questo tizio qui, il grandissimo e incredibilissimo freddo il confuso, lui adesso mi darà la chiave gialla, ragazzi. La chiave finale. Bellissima, raga. Oh mio Dio. Mettiamocene tutte nei primi slot dell'inventario. Io voglio la gialla al primo posto, però mi dispiace. Guarda, sono pure in ordine quasi di colore, se vogliamo metterla. Guarda, ci dice. Legende narrano che per Apriload basti droppare le chiavi della prigione qua dentro. Io mi metto qui e faccio uno, due, tre. Eh, ma devo andare più lontano, così? Si è aperto! Si è aperto, raga! Posso andare? Ti sei liberato! Raga, siamo tornati in un mondo normale, non ci posso credere! Eravamo veramente in un'altra dimensione! È stato un viaggio incredibile! Spero che vi sia piaciuto. E spero di capire chi è che mi ha mandato in questo posto. Qualche mio dubbio ce l'ho. Secondo voi chi è stato? Spero che vi sia piaciuto!